scientificast il podcast vi ho ascoltato in parapendio puntata 222 benvenuti a questo nuovo episodio di scientificast in particolare a questa bellissima puntata che è un numero magnifico ovvero la 222 vero giorgio ciao a tutti si bellissimo numero che ricorderai è palindromo non so se vi ne siete accorti non so una delle proprietà a caso è vero come la 202 anche come tipo la 111 eh sì ce ne sono un po' troppi a questo punto ok quindi non è neanche così figo no vabbè no però è però è un numero ripetuto per tre volte quindi era nella 111 e la prossima sarà la 333 esatto che nonché è la targa della macchina di nessuno perché quella è la 313 che comunque è palindromo anche 313 vedi tutto torno è l'universo che ci sta dicendo qualcosa non sappiamo cosa però però secondo me sì anche secondo me sta dicendo sta dicendo qualcosa sta parlando in realtà molto chiaramente ma noi non lo stiamo ascoltando abbiamo una domanda la prima domanda di oggi nonché anche tra l'altro l'unica viene da veronica e ci suggerisce un articolo di le scienze a proposito dell'effetto delle sostanze psichedeliche come la chetamina sulla struttura del neurone ci chiedo di spiegare un po meglio questo articolo dunque questo articolo parte da uno studio pubblicato su cell reports che parla appunto di del studio fatto sul cervello da parte di alcune di alcuni scienziati che correlavano l'effetto di sostanze psichedeliche a ramificazioni dei dei neuroni e che questo poteva anche essere tutto sommato abbastanza abbastanza utile per la salute allora facciamo una premessa in realtà io tempo fa avevo deciso di fare uno studio un cioè non uno studio scientifico ma una meta analisi quindi prendermi una tonnellata di articoli e valutare quale fosse l'effetto delle varie droghe sul sul cervello posso dire che ho avuto paura perché pensavo prendesse una tonnellata di chetamina esatto tra cui per fare questo ho preso anche una tonnellata di chetamina e questo a parte le pesanti che sono tutti d'accordo che fanno malissimo se andiamo nel campo delle droghe leggere o dei blandi allucinogeni in realtà si trova esattamente tutto e il contrario di tutto cioè c'è chi dice che fanno bene c'è chi dice che fanno malissimo c'è chi dice che danno dipendenza c'è chi dice che non danno dipendenza quindi è un mondo assolutamente complicatissimo e non riesco a capire perché cioè sembra che quando si parla di di effetto di sostanze psichedeliche si si arrivi a boh non lo so a una certa incapacità da parte degli scienziati di essere oggettivi non so se perché nel frattempo le usano o boh come me nel caso mentre studiavo la le sostanze psicoattive comunque in questo articolo se si parla di appunto uno studio in vitro e in vivo su modelli animali su come le sostanze alcune sostanze stupefacenti possano modificare la struttura del neurone e lo studio interessante proprio perché sembrerebbe che la chetamina sia in grado di cambiare la struttura dei neuroni e agire anche come antidepressivo che agisce come antidepressivo lo si sapeva già anche prima perché fra gli effetti della chetamina c'è proprio quello di dare una certa uforia e quindi è assolutamente un contrasto a tutte le forme di depressione quindi effettivamente è molto efficace come 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 farmaco molto di più in realtà delle dei farmaci attualmente in commercio che secondo l'articolo danno buoni risultati solo nel 60 per cento dei pazienti invece la chetamina spacca bomba che poi è il motivo per cui l'assumono per motivi recreativi quindi se ne ha meno funzione esatto anche chi non è depresso l'assume esatto comunque di fatto è un farmaco che la chetamina tra l'altro non è una droga e basta è un farmaco che viene comunque usato già come antidepressivo quindi si sapeva già l'effetto non si capiva bene il perché oltre che ovviamente come droga ricreativa vabbè a parte un po di allucinazioni e qualche stato dissociativo in cui probabilmente pensi di essere un canguro nella savana tutto sommato nel senso non è il paragone non è voluto a caso nel senso che le allucinazioni sono abbastanza intense quindi potenzialmente potresti davvero essere un canguro parlante nella savana mi ricordo un po una puntata di simpson con il coyote della luna che si era fatto di peperoncino sì di peperoncino ecco sembra che in caso di particolare depressione il cervello subisca una specie di avvizzimento delle connessioni fra i neuroni quindi i neuroni tendono a ritrarsi e quindi i circuiti neurali diminuiscono e questo avvizzimento neurale che avviene in particolare nella corteccia prefrontale che è la zona del cervello che regola le emozioni e lo stato d'ansia e il variare dell'umore può essere quindi contrastato con la chetamina che invece cresce stimola la crescita di questa di queste vie di queste di questa ramificazione quindi sostanzialmente la chetamina potrebbe essere una buona una buona possibilità gli scienziati nel dubbio hanno studiato vari tipi di sostanze fra cui le anfetamine fra cui l'estasi che le triptamine come la dmt e le ergoline come la lsd come lsd quindi hanno studiato vari varie sostanze indicano che tutti i dati raccolti comunque gli effetti sulle cellule sono sempre le stesse tendono appunto a migliorare la ricercita dei neuroni ovviamente l'autore precisa in conclusione di questa cosa che la chetamina non è l'unica opzione insomma ci sono una serie di sostanze che possono promuovere questa che lui chiama plasticità dal punto di vista dei neuroni e quindi che possono contrastare questo avvizzimento progressivo nella di alcune connessioni nella corteccia prefrontale ovviamente si spera che ci siano dei farmaci che non creino dipendenza perché uno dei problemi grossi e la chetamina per esempio è che oltre a creare dipendenza in realtà sviluppi molto rapidamente una certa tolleranza un'alta tolleranza e quindi questo fa sì che tu tenda ad aumentare continuamente la dose per indurre sempre lo stesso effetto bisognerebbe andare a verificare se anche una volta che l'effetto o quantomeno la tolleranza è aumentata comunque l'effetto sui neuroni c'è lo stesso secondo me non è detto perché potrebbe non essere di per sé la sostanza che ti fa questo effetto ma quindi non la chetamina in sé ma di per sé un una sensazione che la chetamina ti induce quindi tutta una serie di cascate di di sostanze che vengono liberate nel cervello a seguito dell'assunzione di chetamina o altre droghe che portano a questa a questa ramificazione beh però può essere comunque un buon inizio per futuri studi io direi farmaci nel dubbio non fatevi di chetamina perché ci possono essere dei problemi molto più grossi in generale io non sono un gran fan delle droghe di qualunque tipo tranne dell'alcol di quello mi spacca no adesso c'è stato lo studio quindi non si può più neanche dire quello della della dose minima di alcol che magari ne parleremo ma comunque quello che al di là del fatto che ti possono dare degli effetti corretari tipo tachicardia ronzio nelle orecchie pensare di essere un canguro nella savana fra le varie cose ci possono anche essere stati d'ansia attacchi di panico depressione che però tra l'altro è il contrario di quello che che dovrebbe fare quindi boh cioè nel senso non non saprei diciamo che danno anche paura del buio cioè la chetamina può anche dare paura del buio e insonnia che sono le due cose peggiori una dell'altra prima ti generano insonnia e poi c'hai paura del buio questo mi sembra divertente come cosa quindi ti trovi al buio senza riuscire a dormire esatto hai paura del buio ma non riesci a prendere sonno quindi continuerai ad avere paura del buio e a non prendere sonno perché hai paura esatto e sì comunque tanto non puoi farlo perché la chetamina te lo impedisce però di fatto ti metti in un ottimo stato d'animo in un stato d'animo talmente gioioso che puoi rimanere svegli e soffrire per il per lo stare nel buio di cui è terrore quindi bene questo è l'articolo io di questi articoli come diceva all'inizio li prenderei un po tutti con le pinze perché non non lo so secondo me ci sono altri 3 4 5 milioni di articoli che dicono esattamente la stessa cosa e contemporaneamente altri 3 4 5 milioni che dicono l'esatto opposto ma non lo so se mi piace capire perché sulle droghe così è infatti secondo te è un problema di distinguere la in realtà gli effetti solo della della droga o ma secondo me è allora sicuramente in buona parte c'è soprattutto per quanto riguarda il thc la marijuana che sono considerate droghe leggere quindi non hanno alle loro spalle una certa posizione politica quantomeno politica sociale lì secondo me proprio si è influenzato un po dalla dall'opinione del singolo scienziato che non dovrebbe essere così però è difficile c'è anche lo scienziato è umano e quindi può essere che all'interno di tutto questo ci sia una sua convinzione di fondo in realtà i dati non è che devono essere semplicemente falsi non è questo il punto è che magari vai a valutare solamente uno degli aspetti e non tutti gli altri difficile capire esattamente quale sia l'effetto di una sostanza sul nostro organismo a 360 gradi quindi andando a valutare le parti positivi gli effetti positivi e gli effetti negativi in molti questi studi si prende in esame uno solo degli effetti e si pubblica e quindi magari non so in questo caso la chetamina mostra la capacità di dare plasticità ai neuroni e quindi combattere la depressione per carità poi magari non non prendi in considerazione altri effetti negativi che magari sorpassano quelli positivi quindi è questo probabilmente che nelle droghe crea un po di problemi e che ci sono articoli che si occupano di effetti negativi e te la descrivono la droga come il male assoluto degli studi che ti parlano di effetti positivi che ti parla appunto come questo qui di plasticità neuronale poi però bisognerebbe metterli assieme e fare un bilancio su quali siano i pro e i contro su cosa convenga fare cosa non convenga quindi boh non sono riuscito a trovare una risposta mi sono annoiato prima ci sta esatto e per questo e considerando che io non mi faccio di chetamina per me la noia è un problema non posso fuggire in allucinazioni pesanti da qualche parte va bene questa era la domanda di oggi per quanto riguarda invece gli interventi di oggi quindi entra nel vivo della puntata c'è il primo intervento che però è tuo giorgio sì a questo punto mi autolancerei direi come minimo mi balzo da solo e no l'ho intervistato il professore alessandro achilli dell'università di pavia e partendo da una domanda di un nostro ascoltatore abbiamo un po parlato di di genoma e di di evoluzione e anche un po di di migrazioni della dei nostri antenati che ovviamente non antenati diciamo molto antenati paleolitici ciao amici scientificas sono qui con il professor alessandro achilli professore associato del dipartimento di biologia e biotecnologie dell'università di pavia e siamo qui a rispondere a una domanda di uno dei nostri ascoltatori che chiameremo alexander fleming che ci chiede in breve riassumendo la sua domanda come può succedere che nel corso dell'evoluzione un individuo acquisti o perda un cromosoma rispetto ai suoi genitori quindi lascio un attimo la parola al professor achilli che proverà a risponderci grazie mille intanto per l'invito a partecipare al vostro alla vostra discussione e allora diciamo che quando tu mai mi hai chiesto come acquistiamo perdiamo cromosomi allora questo acquisire perdere cromosomi è una delle forme in cui evolve il nostro genoma l'evoluzione in generale avviene per mutazioni per cambiamenti questi cambiamenti possono essere piccoli e quindi riguardare una singola base del nostro dna ricordo a tutti che il dna umano è composto da 23 coppie di cromosomi omologhi che a loro volta sono costituiti da 3 miliardi di basi che vuol dire vuol dire che le istruzioni per capire come siamo fatti a livello fenotipico a livello di immagine sono codificate in questi 3 miliardi di caratteri che a loro volta sono raggruppati in 23 coppie di cromosomi che succede succede che se non ci fosse variabilità non ci sarebbe stata evoluzione quindi possiamo cambiare o il singolo carattere e questa è la mutazione la cosa che avviene più frequentemente il cambio di un singolo nucleotide di un singolo carattere appunto oppure possiamo avere anche delle mutazioni più grandi più gravi delle variazioni più gravi che interessano una parte o interi cromosomi questi generalmente portano problemi portano patologie portano una condizione di instabilità cromosomica però sono anche il motore dell'evoluzione ad esempio i nostri parenti più prossimi che sono gli scimpanzee hanno una coppia di cromosomi in più di noi ma questo come è stato possibile è stato possibile ridurre questo numero di cromosomi ma non il contenuto dei cromosomi perché semplicemente loro avevano due cromosomi più piccoli e durante l'evoluzione si sono fusi tra di loro e hanno dato il nostro cromosoma 2 quindi di fatto il contenuto genico è rimasto pressoché identico se noi confrontiamo i 3 miliardi di basi nostre con quelle dello scimpanzee nel 98 per cento delle basi dei caratteri ritroviamo identità questo arrangiare i caratteri semplicemente si è modificato anziché essere in 48 cromosomi è diventato in 46 cromosomi da che viene la domanda se accade questa mutazione l'individuo con il numero diciamo tra virgolette sbagliato quindi non uguale agli altri di cromosomi come fa a far nascere una nuova specie perché la prima cosa che viene in mente è che esistono ibridi di due specie che però sono di solito sterili come fa allora a formarsi la nuova la nuova specie il il fenomeno della specie azione è un fenomeno vasto che non riguarda solo la genetica il dna riguarda la biologia in generale cioè la specie azione può essere vista da un punto di vista fenotipico perché definire una specie è molto complicato è molto complesso e anche la tassonomia in continua evoluzione da un punto di vista genetico una specie sono individui che sopposti che non sono in grado di accoppiarsi tra loro che se sono in grado di accopparsi da loro danno una prole che non è fertile ma questo non è l'unico concetto di specie un altro concetto di specie sono individui che proprio non riescono fisicamente a accoppiarsi tra loro perché non riescono proprio ad incontrarsi che succede che questi individui se si trovano ad esempio come ho fatto il caso prima durante l'evoluzione dell'uomo il sapiens si è trovato a un certo momento il sapiens no partendo dal gli ominidi quindi gli arcaici quelli che adesso sono estinti anche se adesso possiamo ricostruire il loro genoma si sono trovati isolati dagli scimpanzè hanno continuato a incontrarsi tra loro è un evento ovviamente raro ma quando parliamo di evoluzione parliamo della possibilità di ottenere della possibilità che eventi rari diventino predominanti faccio un esempio sulla fissazione della mutazione una mutazione in generale anche quelle piccoline avvengono con una probabilità di uno su un miliardo ad esempio però che cosa succede se questo uno su un miliardo viene ad essere l'unico individuo presente in un certo ambiente in un certo contesto diventa preponderante rappresenta il 100 per cento di quel contesto questo è il classico esempio dell'isolamento genetico dell'effetto del fondatore se questo individuo se questa specie nuova anche se ha un corredo cromosomico instabile che sicuramente porterà a dei problemi durante la riproduzione riesce ad essere l'unico individuo presente in un certo contesto sarà lui che avrà una fitness una capacità riproduttiva maggiore perché non avrà competitors quindi con una certa probabilità riesce comunque ad ottenere una una nuova progenie quindi a dare vita a una nuova specie che che se appunto si trova ad essere l'unica presente in un certo territorio potrà evolversi e aumentare di numero e dare e dare a quel punto prole fertile ok chiarissimo al professor achilli cita spesso la gli ominidi e così perché non abbiamo detto il suo campo di ricerca è lo studio del dna al fine di chiarire l'origine l'evoluzione delle popolazioni quindi la curiosità è se ci può spiegare un attimo cos'è successo al nostro dna a questo punto se possiamo fare una sorta di storia del nostro dna nel limite possibile allora parlo ovviamente nostro dna intendi uomo di uomo allora diciamo che noi come uomo moderno quindi come homo sapiens ci siamo originati in africa e la nostra questo è stato studiato inizialmente sul mitocondriale che è la parte di genoma che studio di più io perché il dna noi lo abbiamo come tutti sapranno all'interno del nucleo la maggior parte quelle 3 miliardi di base ma abbiamo una piccola molecola anche all'interno dei mitocondri che sono dei piccoli organelli che troviamo all'interno del citoplasma quindi fuori dal nucleo e che viene trasmesso soltanto dalle femmine qual è il vantaggio di studiare i mitocondri volendo andare indietro nel tempo che non rimescolano che vengono trasmessi semplicemente dalla madre ai figli poi le femmine riescono a trasmettere ancora le progenie invariate salvo quelle mutazioni rare di cui parlavo prima in questo modo non avendo miscolamento è come se queste mutazioni scrivessero la storia di queste popolazioni femminili e riesciamo ad andare indietro nel tempo si è visto che le popolazioni che hanno accumulato un maggior numero di mutazioni nel loro dna erano di origine africana e quindi nell'uomo moderno diciamo è nato in africa questa era la teoria dell'eva africana poi dal mitocondriale grazie all'evoluzione delle tecniche delle capacità di sequenziamento si è passate al genoma nucleare e questo genoma nucleare ha confermato questa origine africana quindi l'uomo moderno si è evoluto a partire dall'uomo erectus che era l'ominite precedente in africa dopodiché è uscito dalla 200 mila anni fa è uscito dall'africa perché noi dobbiamo pensare a questi omini ominiti che erano non stanziali come noi perché loro si procuravano il cibo cacciando e raccogliendo quindi andavano dietro alle loro prede e quindi in territori nuovi inesplorati per loro erano o non avevano competitors e si spostavano molto più velocemente di noi quindi circa 60 70 mila anni fa dall'africa subsahariana sono usciti per colonizzare il resto del mondo presumibilmente ma qui c'è una grossa discussione sono usciti dalla lungo una rotta costiera quindi andando prima in australasia quindi melanesia eccetera e poi solo successivamente in medio oriente poi in europa perché perché 70 mila anni fa c'era un picco glaciale quindi a nord molto a nord non si riusciva ad andare 43 mila anni fa testimonianze e reperti archeologici ci dicono che sicuramente sono arrivati in europa ma in europa c'era un altro ominide nel frattempo che era il neandertal che si era evoluto 300 mila anni prima che si trovava in quella zona e quindi c'è stata una discussione che si è estinto adesso si pensa prima si pensava intorno a 30 mila anni fa adesso intorno a 40 mila anni fa comunque c'è stato un periodo di sovrapposizione se non in europa sicuramente in medio oriente più brevi diciamo più breve in europa maggiore in medio oriente che è successo che si è cominciato a studiare a vedere ok quindi c'è stato un mescolamento tra questi ominidi perché erano entrambi presenti allo stesso momento quindi abbiamo tracce di neandertal nel nostro dna il mitocondriale quello che citavo prima quindi l'origine materna ci diceva di no quindi non c'era stato assolutamente interbreeding e quindi mescolamento scusate se ho usato un termine inglese successivamente all'analisi di tutto il genoma ha detto che in realtà c'è stato questo mescolamento sicuramente non erano due specie che si amavano erano dei competitori appunto perché ognuno cercava di catturare le proprie prete tra l'altro con tecniche molto diverse quindi anche qui il concetto di specie già ho detto il genoma nucleare cambia il concetto quindi ci dice che si sono mescolati quindi uno già dice allora sono la stessa specie no perché fenotipicamente socialmente nel loro tipo di comportamento proprio perché come dicevo prima il concetto di specie abbraccia l'intero organismo bisogna considerare l'aspetto fenotipico dell'intero organismo ma anche comportamentale erano due specie separate che comunque hanno in una certa percentuale si sono ricombinati si sono mescolati e ritroviamo dal 2 al 4 per cento del nostro genoma che è d'origine neandertaliana questo è un diciamo ci racconta un po la storia del diciamo di come si è evoluto l'uomo moderne come il dna ci può ricostruire la nostra storia tutto quello che ho detto adesso viene da reperti archeologici ma è stato confermato analizzando il dna analizzando il dna delle popolazioni attuali cosa che io ho fatto per diversi anni ormai e che è stato però soprattutto confermato dov'è che noi troviamo la conferma alle ipotesi che facciamo analizzando il dna delle popolazioni attuali quando riusciamo andare a sequenziare il dna dei reperti fossili e questo adesso è possibile e proprio grazie per esempio alla sequenza del neandertal che comunque si è estinto come dicevo prima 40 mila anni fa avendo la sequenza completa possiamo ridire come era come era possibile tra l'altro c'era anche un altro ominide che non è arrivato proprio in europa ma in eurasia che era il denisova che è stato scoperto più recentemente ad esempio questo qui da un punto di vista fenotipico è praticamente impossibile ritrovarlo perché abbiamo soltanto dei frammenti ossei però è stato sequenziato a partire da piccoli frammenti ossei più piccoli di una falange di un dito è stato possibile di sequenziare l'intero genoma avevamo parlato del denisova in una delle scorse puntate riguardo alla nuova bimba metà neandertal metà neandertal che avevamo a questo punto una cosa che io lo ammetto sono piuttosto ignorante a riguardo quindi faccio le domande un po' stupide anche lì non mi è mai stato chiaro il neandertal a questo punto da dove salta fuori cioè il neandertal arrivava anche lui dall'africa è uscito dall'africa il neandertal veniva comunque dall'africa la sua piena evoluzione a livello fenotipico quindi a livello di aspetto come noi lo conosciamo adesso è avvenuta nell'eurasia occidentale però anche lui l'origine la divergenza tra neandertal e homo sapiens è avvenuta e quello poi che era l'antenato dell'homo sapiens è avvenuta 600 mila anni fa quindi sicuramente ci troviamo ci troviamo in africa poi il completo sviluppo fenotipico sia il neandertal come lo abbiamo ritrovato in alcuni reperti e la sua maggiore espansione è avvenuta a partire da 300 mila anni fa molto più ampia 100 mila anni fa in Europa si sa avendo sequenzato il genoma si sa la struttura del DNA e rispetto al nostro come aspetta rispetto al numero di cromosomi ne discutevo proprio oggi con un mio dottorando è stato queste piccole sequenze perché il modo in cui si fa adesso una sequenza antica sono piccoli frammenti di DNA che sono più corti di 70-80 mila anni ci tengo a dire per esempio che analizzare come potrai immaginare una sequenza da un osso risalente a 40 mila anni fa non è semplice il DNA si degrada si rompe si spezzetta acquista delle mutazioni non è sempre servono delle strutture adeguate e finora per esempio nel nord Italia non c'erano strutture di questo tipo abbiamo collaboriamo noi con un gruppo di Firenze col professor Caramelli che è molto forte in Italia in questo senso da poco noi essendo diventati dipartimento di eccellenza avendo avuto un finanziamento dal ministero consistente entro fine anno inizio dell'anno avremo un laboratorio dedicato solo al DNA antico qui nel nostro dipartimento e quindi potremo fare queste analisi diciamo che non è facile come ha fatto vedere Jurassic Park che tiravano fuori il DNA no io l'ho fatto ho sequenziato dei campioni l'estate scorsa sono stato insieme appunto a mio dottorando in Illinois in un laboratorio dedicato a sequenziare dei campioni che avevamo scavato a Panama per un progetto europeo e non è una cosa semplice non c'è quella facilità che adesso c'è nel sequenziare i genomi moderni e il maggior rischio ovviamente è la contaminazione cioè sapere quello che è realmente il DNA che abbiamo estratto dall'osso ho detto prima che il contributo del neandetra al nostro genoma è tra il 2 e il 4% e quindi non sarebbe facile distinguere quello che è il DNA di un operatore o di un archeologo che ha scavato il reperto rispetto a quello originale quindi bisogna lavorare in condizioni di estrema sterilità in quelle che si chiamano camere bianche quindi nel massimo rispetto della pulizia, della sterilità e le stesse camere dove le camere bianche di un laboratorio di DNA antico sono le stesse dove vengono prodotti i farmaci o le camere operatorie e così via quindi le precauzioni forse sono ancora maggiori potevo farti vedere delle foto in cui veniamo incappucciati e in quel caso sembra tipo CSI semplicemente il forense studia il DNA vecchio, quello che possiamo estrarre anche da tessuti invece nel DNA antico estraiamo il DNA appunto da ossa quello che succede è che queste sequenzine che poi fanno i 3 miliardi di base sono ciascuna lunghe 70 caratteri quindi sono piccole sequenze perché il DNA nel corso degli anni, migliaia di anni in questo caso, si rompe quindi diventa piccolissimo però andandolo a mappare, la struttura, la mappatura è simile a quella dei cromosomi umani per esempio il 4% che noi ritroviamo di sequenza simile a enendertaliani una cosa strana di cui si è discusso molto è che la ritroviamo in geni che sono associati a patologie quindi in questo mescolamento ci abbiamo un po' rimesso abbiamo preso quelle che sono delle caratteristiche che non erano propriamente buone direi che abbiamo risposto perlomeno al nostro ascoltatore e anche qualcosa in più il professor Achilli sarà, se vi è piaciuto il suo intervento senz'altro potrete ascoltarlo anche il 27, giovedì 27 settembre alle pillole di scienza della Notte dei Ricercatori qui a Pavia se ci può dire un piccolo spoiler senza... no, spoiler no perché è una brutta parola una piccola anticipazione il titolo di quello che parlerà allora sì il titolo è un po' provocatorio nel senso che il titolo è quanto siamo neandertaliani e questo ne ho già parlato e quanto siamo italiani perché in realtà io, ripeto adesso ho iniziato a occuparmi di DNA antico però quello che studio sono le popolazioni moderne come le attuali popolazioni le attuali popolazioni che troviamo in un'area geografica qual è la loro componente ancestrale da dove derivano per esempio se tu chiedessi adesso parliamo qui ci troviamo a Pavia e un ascoltatore potrebbe pensare ok, forse l'accento mi tradisce un po' però un ascoltatore potrebbe pensare ok, è di Pavia sicuramente non sono di Pavia sono nato a Roma ma i miei genitori sono marchigiani quindi io sono in teoria per quanto ne so io un rappresentante della popolazione marchigiana quando vado a analizzare il mio DNA nel mio DNA c'è scritto la storia dei miei antenati non fino a che la conosco io che può essere se uno ha una buona conoscenza genealogica della propria storia familiare può arrivare a cento anni poco più col DNA come dicevo prima possiamo andare indietro in migliaia di anni ad esempio io analizzando il mio genoma e di questo che parlerò mi sono chiesto prima di tutto quanto sono neandertaliano e sono neandertaliano meno del 4% rientro nella norma anzi la mia percentuale neandertaliano è in realtà più bassa del 75% delle persone che sono state analizzate finora quindi diciamo sono più sapiens che neandertaliano poi mi sono chiesto anche quanto sono italiani lì viene fuori perché se io appunto ho chiesto anche ai miei parenti che ancora sono in vita e a tutti gli altri siamo sicuri che siamo italiani e loro mi hanno detto sì sì siamo tutti italiani tutti quelli che conosciamo siamo italiani ebbene il mio DNA mi dice che circa il 75% del mio DNA italiano tutto il resto viene il 25% viene dal resto del mondo compresa una porzione anche se è poco meno dell'1% dall'Africa subsahariana quindi in realtà quello che voglio direi è che quando oggi un individuo una persona una comunità si identifica con un luogo cioè si identifica in un arco temporale ristretto andando indietro nel tempo siamo tutti frutto di migrazioni alla fine prima di tutto siamo tutti africani perché 200.000 anni fa eravamo soltanto in Africa poi una volta usciti dall'Africa i mescolamenti in tempi antichi ma anche in tempi recenti lo vediamo sono sempre avvenuti e la traccia la ritroviamo nel nostro DNA che non è che ci nasconde le cose ce le rivela quando si hanno gli strumenti tecnici tecnologici e statistici soprattutto a questo punto bioinformatici adeguati quindi sicuramente quello che voglio dire è che la propria identità deve andare sicuramente oltre i confini convenzionali e infatti ci tengo a citarlo il più grande genetista di popolazione io mi ritengo un genetista di popolazione di popolazione umane ma se vuoi un'altra volta parliamo anche di popolazioni animali intese non umane animali non umane visto che anche l'uomo è un animale Cavallis Forza che purtroppo è morto il 31 agosto lui diceva che ciascuna comunità è semplicemente un microcosmo che rappresenta il macrocosmo dell'intera umanità semplicemente in prozioni diverse e quindi lui l'aveva detto già nel 1994 l'ha ribadito pochi anni fa e sicuramente mi trova pienamente d'accordo e non possiamo che concordare va bene quindi ringraziamo ancora la professora Achilli se avete altre domande da fare fatecele e se il professore accorre magari ci risentiamo un'altra volta volentieri grazie a tutti e un saluto ringraziamo il professore Achilli che mi ha scritto in seguito per una precisazione ci teneva particolarmente quindi quindi la diciamo non era convinto che si capisse benissimo dall'intervento che le scimmie antropomorfe hanno ancora il cromosoma a due diviso quindi hanno 24 copie di cromosomi anziché 23 tutto qui come nella cioè le scimmie antropomorfe il Neandertal e il Denisova ok quindi tutti tutti i 24 copie di cromosomi ok adesso dovrebbe essere chiarito l'eventuale dubbio e adesso è anche chiarito che è il momento della Barza che è tornato il momento della Barza perché va da un po' che non si faceva visto che io a settembre sono stato un po' incasinato in realtà lo siamo stati un po' tutti perché abbiamo un po' di eventi ma ne parliamo poi in conclusione di puntata comunque la prima cosa che dobbiamo dire sulla Barza è che un romano entra in un bar alza l'indice e il medio della mano destra e ordina 5 birre questa arriva con un po' più di calma ma è inutile che fai così perché siamo in due ci fossero tutto tutto il pubblico di Scientificas adesso ci sarebbe un'ovazione standing ovation macchine che sbandano contro i guardrail perché la gente è proprio alle lacrime dagli occhi e non vede non vede davanti se fossimo nell'antica Roma saremmo in 5 in realtà è durissima anche questa è durissima stiamo esagerando è durissimo è durissimo va bene va bene beh dipende in realtà va bene comunque dipende con quali dita conti se lo fai col pollice e l'indice in realtà non siamo in 5 ma siamo una pistola o siamo due pistola con una sola mano dici tutto quello che c'è bisogno di dire esatto che c'è bisogno di dire bene e rimanendo sul tema del faceto hai visto come uso delle parole desuete in maniera pertinente incredibile tra l'altro che hai studiato latino ma vero sì 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 prima disquisevamo no vedi io non lo so dire ne parlavamo per l'altra per l'altra barza della giornata che sarebbe quello che un antico romano entra in un bar di nuovo e chiede un martinus il barista risponde un martini vorrà dire e la risposta no ne voglio solo uno anche questo arriva dopo arriva dopo se hai studiato latino quindi scientifica non discrimina nessuno perché anche chi non sa di scienza ma non lo so studiato lettere antiche o fa l'archeologo può ridere con noi esattamente esattamente l'archeologo deve per forza sapere il latino perché tu stai dando per scontato che l'archeologo studi delle popolazioni di lingua latina anche questo questo è razzismo nei confronti degli archeologi che studiano popolazioni di lingua non latina è vero ma in realtà conosco gente che studia l'archeologia che sa lingue improbabili politita e vedi è incredibile volendo può parlare con un ittita io ho una cosa che invidio perché sai qual è la cosa bella di tutto questo è che gli ittiti non esistono più quindi tu puoi dirlo che parli gli ittita ma tanto non c'è nessuno che può verificarlo perché tanto sono tutti morti bene è venuto il momento di passare alla seconda parte alla seconda argomenta della puntata che è un argomento assolutamente serio che ricade tutti gli anni e che è di particolare interesse per noi perché noi i nobel sicuramente non li vinciamo quindi tanto vale puntare a vincere gli ignobel sono quei premi che vengono distribuiti assegnati ogni anno per le ricerche più improbabili cioè le ricerche serie quindi quelle pubblicate su riviste scientifiche ma con le temati con gli scopi o i metodi più improbabili ne facciamo una testa vuoi partire tu da quello no parto io da quello della medicina dai vai ok il premio del 2018 league nobel per la medicina del 2018 è stato dato a mark mitchell e david wartinger per lo studio sull'effetto delle montagne russe sulla velocità sulla velocizzazione si c'è velocizzazione del passaggio dei calcoli renali nel cioè per lo smaltimento cioè stare sul roller coaster su roller coaster si sulle montagne russe aiuterebbe a espellere i calcoli renali in realtà viene poi precisato all'interno dell'articolo che stare davanti non aiuta tantissimo l'aiuto maggiore ce l'avete solamente se state dalla metà in giù in particolare nelle ultime posizioni quindi se avete i calcoli renali questo studio dell'ottobre del 2016 vi garantisce che stando sulle montagne russe in fondo avrete una ottima possibilità di aumentare la velocità del passaggio in particolare la percentuale è del 100% quindi in tutti i casi il calcolo si muove più velocemente si in base alla calcificazione si dipende dal tipo di calcificazione eccetera però insomma tra l'altro è un'ottima notizia perché qualche giorno fa salvo di grazia Madbunker ha messo una foto che ha fatto accapponare la pelle a tutti con un vecchio strumento per estrarre i calcoli renali l'idea era che diciamo passava da una zona molto dolorosa per tutti ma in particolare per noi maschietti maschietti si e poi andava a recuperare andava a recuperare si tipo ha messo quella foto dello schema dell'attrezzo se vi capita guardatelo su twitter e diciamo che il roller il roller coast è molto 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 meglio meno male che la modernità ci è venuta in aiuto inventando le montagne russe va bene premio per l'antropologia Giorgio il premio per l'antropologia è stato assegnato a Thomas Persson e il suo team per lo studio dell'imitazione tra specie spontanea in particolare tra lo scimpanzé e i visitatori dello zoo quindi è emerso che gli scimpanzé imitano l'uomo tanto quanto l'uomo imita il scimpanzé si allo stesso rate che è circa del 10% il 10% degli scimpanzé imita l'uomo e il 10% degli uomini imita scimpanzé il che vuol dire che non vuol dire che il 10% degli uomini non si è evoluto no anche perché in realtà non è il 10% dei singoli individui ma il 10% di tutte le azioni prodotte quindi in realtà tu potresti essere aver compiuto un'azione una del 10% azioni che sono state imitate dallo scimpanzé quindi non è che sono solo il 10% degli uomini che sono scemi ovviamente molto di più è il 10% delle azioni di tutti gli uomini quindi se tu fai 10 azioni uno lo scimpanzé te lo imita e viceversa e viceversa perché hanno lo stesso rate su 10 azioni che fa la scimpanzé una trovi l'uomo che gliela imita esattamente così esatto la cosa interessante è che per un buon 36% in un 36% dei casi si è scoperto che lo scimpanzé capisce che lo stanno imitando e quindi incomincia un gioco all'imitazione in cui lo scimpanzé imita l'uomo l'uomo imita lo scimpanzé e viceversa non sono cioè lo scimpanzé questo è quello che dice lo studio è che lo scimpanzé si accorge che l'uomo lo sta imitando quello che non sono certo di aver capito è se l'uomo capisce che lo scimpanzé lo sta prendendo per il culo secondo me no in molti per cento dei casi potrebbe essere il futuro studio magari scriviamo al signor person e al dottor non sicuramente perché l'uomo è più scemo dello scimpanzé ma magari proprio per una questione di superiorità magari l'uomo si sente talmente superiore che dice ma va figurati se lui sta facendo così perché io sto facendo così in realtà sì è così in realtà ti becchi anche il premio per la biologia mi sa perché te l'hai approfondito tu sì perché l'ho approfondito il premio per la biologia va a Paul Becker Becker direi Becker Becker direi e tutto il suo team per uno studio che riguarda i moscerini che anziché stare nella zuppa come in tutte le bar zellette esatto stanno però nel vino in particolare hanno sottoposto a otto sommelier di quelli di quelli seri diciamo la possibilità di annusare l'ormone Z4-11 della drosofila melanogaster il famoso moscerino della frutta che è stato usato praticamente sempre per qualunque cosa in biologia molto molto apprezzato esatto e in particolare sono stati fatti vari esperimenti praticamente è stato messo prima un moscerino maschio uno femmina per 5 minuti in un bicchiere da degustazione di vini e è stato studiato è stato chiesto ai sommelier di annusare e di riconoscere la presenza o meno di questo ormone che ha a quanto pare un odore particolare e da questo è stato dedotto che le femmine hanno un odore ben distintivo dopodiché è stato aggiunto prima il moscerino e poi l'ormone sintetico e è stato dimostrato che l'odore di un moscerino oppure di 10 nanogrammi di ormone sintetico è sostanzialmente lo stesso sia nel bicchiere vuoto che nell'acqua che nel vino dopodiché infine è stato messo una dose crescente da un nanogrammo fino a 10 nanogrammi di ormone nel vino in realtà in un pinot blanc buono a sapersi ok nel caso secondo me si abbina anche splendidamente certo perché intanto non ne capisco niente quindi posso dirlo e in tutto ciò anche un nanogrammo secondo è significativamente percettibile che in realtà io francamente non so che odore abbia questo ormone ma magari ci proviamo non usare sì perché poi ho comparato mi sono chiesto vabbè ma è tanto è poco un nanogrammo sì 5 nanogrammi quindi la dose più alta è veramente poco cioè sono tipo 0 0 0 5 parti per billion quindi per per miliardo che è una soglia di percettibilità veramente veramente bassa cioè per confronto adesso avevo un libro sulla birra non sul vino quindi sono andato a vedere alcuni difetti della birra si sentono per parti per milione o comunque si parla di 30 50 parti per bilione per miliardo per miliardo per miliardo cioè tipo il diacetilene che è uno dei difetti della birra più diffusi di origine è parti per miliardo cioè 0,1 comunque cioè è significativamente molto maggiore rispetto a questo ormone quindi deve essere una darti i 5 nanogrammi non ti dice in realtà la concentrazione in parti per milione sì scusa è 5 nanogrammi per litro ok ho dimenticato un pezzo ok buono quindi è un bello puzzolente e quindi ciò dimostra che anche i sommigli che rompono le scatole perché c'è il molcione nel bicchiere hanno ragione potrebbero avere ragione cioè potrebbero quantomeno avere ragione perfetto bene premio per la chimica ignobel per la chimica dato a un team di spagnoli che ha dimostrato quanto pulisce la saliva umana quindi se è davvero buona per pulire le cose quindi quando sputazzate sulle cose e poi ci passate dicendo buono sputazzo e via di fazzolettino è garantato dimostrato che pulisce davvero molto bene questo grazie anche agli enzimi della saliva che aiutano appunto a detergere le superfici ed effettivamente è un buon è un buon agente bravo però non esagere speriamo perché beh chi se ne frega poi avete casini ad asciugare insomma poi dipende anche da che saliva avete cioè se per esempio avete tutti i denti marci probabilmente non state pulendo ma state sporcando questo a vostro puro e soggettivo punto di vista esatto bene prossimo è per la educazione medica grazie per avermi lasciato questo proveniente dal Giappone direttamente dal Giappone da nessun altro post poteva venire questa idea ma sai che sì forse probabilmente allora il dottor Akira Oriuchi spero l'ho pronunciato giusto giusto e il dottor Yoshiko Nakayama 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 hanno fatto uno studio in realtà secondo me molto utile però riguarda sempre un tema che a noi un po' faciloni che ridiamo anche per stocastico per ridere che è la colonoscopia in effetti hanno studiato che la colonoscopia che se non sapete viene eseguita di solito da seduti e poi chiedono un po' di muoversi scusate da sdraiati e mi chiesto un po' di muoversi in realtà da seduti è molto meglio sembra di sì sembra che sia migliore se segue meglio i movimenti le anze l'intestino e tutto quanto ed è si può farsela da soli sì puoi farla in autonomia questo con però con l'endoscopio di invenzione che ha testato l'oro che ha testato il signor Akira Uriuchi quindi bravi bravi adesso se la conosco più e vi fa paura non abbiatene più perché potete anche farvela da soli poi che cosa vediate non lo so c'è un certo non lo dico non lo dico però la conosco più fatta da soli aspetta adesso magari ma la conosco più si fa tipo sotto anestesia no 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 perché sennò magari al massimo gli danno tranquillante che tamina mentre mentre pensi di essere un canguro parlante all'interno della savana hai la sensazione hai una certa sensazione di fastidio in una zona sotto la coda quello è la conosco più sotto che tamina va bene premio per la letteratura invece anche questo non so chi chi dei due l'aveva approfondito probabilmente nessuno dei due nessuno dei due ma parla di te perché hai ammesso candidamente è giusto che sia così e che nessuno approfondisca perché il te il premio per la letteratura parla del fatto che la maggior parte delle persone utilizza strumenti complicati compra volutamente strumenti complicati per poi non leggere il manuale di istruzioni e quindi non capire assolutamente nulla di tutte le funzioni elaborate che il device che ha in mano potenzialmente potrebbe potrebbe fare quindi questo è vero ed è talmente vero che noi non abbiamo nemmeno approfondito questa cosa perché ci sembrava troppo complicato ma dopo tutto è letteratura esatto è letteratura alla fine è letteratura a chi vuoi che interessi ed è per questo che abbiamo già dato il contentino prima di parlare di romano ed è per questo che noi non leggiamo le istruzioni perché sono letteratura fossero scritti in equazioni o quantomeno in matrici lo leggeremmo con molto più piacere e divertimento forse probabilmente no comunque il premio parla anche di un eccesso di potenzialità di features all'interno dei prodotti per il consumatore che quindi molto spesso non sono non solo non lette ma nemmeno comprese quindi molto spesso scopre delle funzioni anni dopo o magari butti via lo strumento senza nemmeno sapere che facesse quelle cose premio per la nutrizione per la nutrizione sì in un momento di diete strane che vanno di moda si sono chiedi il dottor James Cole James Cole sì James Cole pubblicando su Scientific Report si è chiesto quanto è stata significativa dal punto di vista calorico il cannibalismo nel paleolitico scoprendo che scoprendo che poco 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 quindi la dieta cannibale la dieta cannibale allora se sei in realtà una in una zona o in un momento della tua evoluzione in cui hai problemi di calorie cioè che devi prendere calorie male cioè non farlo no però siccome apporta poche calorie se sei in un momento della tua evoluzione in cui assumi normalmente tante calorie non diciamo niente lasciamola lì nel vago vedete voi lasciamola cadere però è interessante perché non fatelo ah beh no non fatelo a casa non mangiate i vostri parenti perché volete dimagrire comunque la cosa interessante è che normalmente cioè che fa bene James Cole a dire questa cosa bravo dottor Cole però ti faccio presente che normalmente la gente mangia l'altra gente quando è in carenza di altro cibo cioè non è che un giorno uno si alza e dice oh ho una parmigiana di melanzane e mia nonna facciamo che mi mangio mia nonna e il dottor Cole ti dice eh no no l'apporto calorico della nonna è inferiore alla parmigiana di melanzane penso che di solito se ti mangi la nonna è perché non hai la parmigiana di melanzane quindi non hai molta scelta no beh a difesa del dottor Cole lui parlava di di abitudini paleolitiche ecco esatto esatto quindi nel senso cioè stiamo un po' estrapolando noi perché dici sì un po' anche anche i signori della dell'improbable chissà se nel paleolitico c'erano le nonne perché sai che vivendo meno beh erano molto giù era più difficile avere una nonna chissà quando hanno inventato il termine non cioè la gente ha iniziato a vivere abbastanza lungo da inventare il termine di nonna e aumentando per estrapolazione come facciamo noi che siamo bravi a estrapolare perché non inventiamo un termine per la trisnonna perché bisnonna è già inflazionato ma trisnonna no ma con l'aumento della vita potremmo avere potremmo avere la trisnonno e quindi a quel punto potremmo inventare un nome che brevettiamo così diventiamo miliardari tutte le volte se uno dice trisnonna deve deve pagarci sì intanto poi con le nuove leggi per il copyright potremmo forse farlo facciamo abbastanza pressione sì infatti esattamente viva l'Europa per quanto riguarda invece il premio per la pace sì questa è è complicata ma è carino è andato a un team di spagnoli di nuovo che ha misurato la frequenza la motivazione e gli effetti di urlare e maledire la gente durante la guida automobilistica sì in realtà non viene percepita come una cosa grave sì molto negativa sì cioè molto molto negativa soprattutto dagli spagnoli a quanto pare sono dei grandi sì hanno preso proprio il tipo il bacino di utenza dello studio erano solo spagnoli sì millecento 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 spagnoli millecento spagnoli che vivono in città con la distribuzione giusta quindi stiamo parlando dello spagnolo quadratico medio medio che che si incazza molto al volante a quanto pare ma non pensa che sia un problema fondamentalmente non è un cioè no ma anche lo studio dice che in realtà che effettivamente è un studio che tra l'altro sconvolge circa il paradigma dell'automobilista arrabbiato dice che questa capacità di insultare la gente e urlargli contro è anche soggetta a dei fattori che nessuno avrebbe mai immaginato prima come lo stress e la stanchezza che è chiaramente una cosa che non avrei mai mai detto mai detto e dicono che tra l'altro è anche successivo a c'è anche una conseguenza della mancato rispetto della sicurezza stradale non da parte dell'automobilista ma magari di tutti gli altri quindi uno mi supera male oppure ci sono delle zone non sicure con degli incroci pericolosi ecco questo stimola l'aggressività dell'automobilista quadratico medio spagnolo e loro suggeriscono in conclusione dell'articolo una conclusione che assolutamente non mi sarei mai aspettato e io sono effettivamente contento che abbiano pubblicato questo articolo perché potrebbe essere questa questo fattore di urlo e quindi anche lo stress alla guida potrebbe essere efficacemente diminuito semplicemente aumentando la sicurezza stradale e l'educazione al rispetto delle leggi non l'avrei mai detto ma è proprio lo studio che stavamo aspettando sì 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 anche secondo me anche secondo me soprattutto lunedì mattina magari ci stanno ascoltando lunedì mattina in macchina sì secondo me questo gli ha risolto il il loro esatto voi che ci ascoltate sappiate che se quando voi insultate qualcuno non è solo colpa di colui che vi ha istigato vi ha stimolato questa rabbia ma è anche colpa dello stato che non vi tutela e non vi dà delle strade sicure e una viabilità a misura di automobilista sappiatelo sappiatelo che è colpa di qualcun altro di automobilista incazzato esatto quadratico medio spagnolo sappiatelo quindi sappiate con chi prenderla una bella lettera al governo non la toglie nessuno bravi ragazzi comunque per la medicina riproduttiva invece John Barry e il suo team hanno vinto l'Ignobel per aver descritto nel loro studio come monitorare la l'impotenza la reale o la presunta impotenza di alcuni pazienti e sai come fanno? con i francobolli con i francobolli e tu dici come si fa? sì perché la domanda dipende dal dal soggetto esatto dalle caratteristiche esatto infatti metti il francobollo il francobollo con Cavour sopra no se metti invece il francobollo con non lo so Eva Enger sì quello dipende non funziona così magari Cavour era anche un bell'uomo tu dici con quel inizio di sovrappeso comunque no in realtà studiano le erezioni notturne quindi come fai a sapere se tu mentre dormi hai un'erezione tu ti credi impotente ma in realtà poi quando dormi e non c'è il dottore c'è l'alza bandiera e il dottore non è il di fianco a te a meno che tu non ti sia sposato un dottore però anche in quel caso il dottore magari dorme e quindi come fai? fai in questo modo suggerito dal dottor Barry che ti dice ti attacchi un francobollo no e e poi in stato di riposo e poi eventualmente se durante la notte succede la magia a quel punto il francobollo si stacca quindi io trovi staccato giustamente però pensa quanto ti fa incazzare la cosa scusate se si fa disegno perché nel senso tu magari pensi no che spiega perché di giorno e poi di notte quando in realtà non serve esatto esatto interessante magari in quel caso è colpa del dottore che hai di fianco non ho capito cosa stai dicendo ma io direi che non approfondiamo se tu ti svegli se tu ti svegli se di notte quando non c'è nessuno non hai nessuno stimolo allora sei performante magari perché nelle occasioni in cui dovresti esserlo il partner non è sufficientemente comunque la mia domanda che in realtà vorrei lasciar cadere nel vuoto è come fai ad attaccarlo cioè da quale parte elecchi premio per l'economia allora il premio per l'economia invece è stato vinto da il signor Liang con una collaborazione tra Canada Cina Singapore e Stati Uniti quindi l'argomento è è un po' sparso nel mondo cioè è un problema in molti esatto in cui hanno preso delle persone gli hanno fatto gli hanno fatto vendicare le loro ingiustizie subite al lavoro picchiottando una bambola voodoo virtuale contro il loro capo a forma di loro capo in realtà c'è un sito che che loro hanno hanno utilizzato per lo studio molto molto carino nel quale tu puoi creare una 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 bambola una bambola voodoo a immagine e somiglianza del tuo del tuo capo dargli il nome del tuo capo e poi poi a tua disposizione hai una serie di possibilità fra cui spilloni fiamme cose così e puoi puoi picchiarlo sembra che questo studio abbia dimostrato inequivocabilmente che picchiare il capo funziona bene cioè aiuta a distendere i nervi da parte del lavoratore e quindi chiariamo la bambola del capo sì la bambola del capo la bambola del capo però scientificas ha detto che ha detto dovete picchiare il capo no no allora no no per due motivi no per due motivi la prima è che voi dovete prima di tutto capire se il vostro capo è veramente malvagio quindi per questo ci sono degli studi in cui voi dovete votare da 1 a 5 io non mi ricordo con 1 non mi ricordo che mi abbia mai trattato così e 5 mi tratta sempre così ok quindi dovete valutare questo a quel punto quando siete certi il vostro capo sia malvagio allora potete andare su dumb.com slash voodoodoll e a quel punto creare la bambola con le fattezze del vostro supervisore e voodooarlo in realtà l'articolo non prende minimamente in considerazione l'effetto che possa fare questa cosa cioè fa l'effetto sulle persone quindi diminuisce il senso di ingiustizia e aumenta la percezione di una giustizia globale il fatto di picchiare la bambola col nome del vostro capo in realtà però di fatto poi non è che il capo subisce qualcosa cioè l'articolo non prende minimamente in considerazione il fatto che possa funzionare e far davvero qualcosa però vabbè beh l'importante è stare meglio se stessi esatto l'importante è meglio stare meglio non prendeteci la mano con poi picchiare il capo subiero no esatto 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 va bene comunque tutti i ragazzi che hanno fatto questo articolo hanno partecipato alla cerimonia degli ignobel quindi bravi bravi ragazzi che avete partecipato e vi avete preso con divertimento questa cosa immagino non vi state minimamente divertiti a fare questa cosa e a far picchiare una bambola voodoo a forma del capo alla gente benissimo questi erano tutti gli ignobel vinti quest'anno nel nel 2018 ogni anno dobbiamo farla questa rubrica perché è bellissimo mi diverte tantissimo direi di sì va bene direi che prima di salutare tutti però e quindi di avviarci verso la conclusione della puntata dobbiamo parlare di un po' di cose perché abbiamo un po' di eventi in programma noi mi sa che stupidamente non abbiamo detto che siamo stati al festival del Cic a Padova per tutti e quattro i giorni ci sono stati un paio di conferenze mie un paio di giornate assieme a Giuliana anche a Narita ha fatto degli interventi quindi insomma avevamo circa una decina di interventi a Padova è andato molto bene ci siamo divertiti c'erano oltre 12.000 persone quindi è stata veramente una una bella occasione per trovare un po' di gente molta gente ci fermava diceva ma tu sei di scientific quindi grazie grazie che ci riconoscete in realtà non ci riconoscete in faccia di solito ci riconoscete quando parliamo sono arrivate segnalazioni di oh ma è Giuliana sì esatto esattamente così quindi va bene noi in realtà siamo delle persone bruttissime quindi è meglio che ci conosciate solamente grazie alla voce perché quando ci vedete in faccia quelle cose così comunque dopo essere stati quattro giorni al festival del Cic di Padova adesso il prossimo evento in realtà sale coordinato quasi tutto Giorgio poverino perché io ero impegnato da altre parti e stavamo organizzando anche altri eventi quindi per la notte dei ricercatori in realtà questa non l'ho capita ma quanto dura la notte dei ricercatori allora la notte dei ricercatori dura un giorno una notte tranne a Pavia la notte esatto tranne a Pavia perché abbiamo un sacco di nebbia forse quest'anno no e quindi non vediamo il sole per una settimana di solito e quindi dura l'intera notte e quindi dura una settimana sì in realtà è iniziata il 23 di settembre aspettando la notte a Vigevano quindi oramai è andata esatto ma potete recuperare i nostri i nostri eventi perché saranno il 25 di settembre 2018 quindi domani esatto se state ascoltando lunedì se no vabbè raga mi dispiace eh sì allo Ius che per intenderci è nel palazzo del Broletto ci siamo capiti lì in fondo a Piazza Vittoria dove c'è un famoso pub perché so che la gente di Scientificast è noi in realtà dovremmo pubblicizzare altri pub di Pavia ma lo faremo un'altra volta che ci hanno dato Paint of Science per sé sì sì esatto le spazi per Paint of Science per anni e quindi vabbè sì sì però non lo faremo perché non è al pub non è al pub non è al pub esatto non è al pub ma è nell'edificio di fianco c'è una scalinata salite lì e c'è il mare in piazza esatto che sostanzialmente è un evento che facciamo con Ziguele ve ne ha parlato Giuliano la settimana scorsa fondamentalmente ci sarà una proiezione diciamo uno streaming uno streaming un live streaming un live streaming dell'immersione di un sub nella riserva marina di Portofino il sub sarà collegato con noi e noi saremo collegati con lui il che vuol dire che possiamo parlare e chiedergli varie cose così ma soprattutto ci sarà Giuliano che da buon biologo marino ci spiegherà quello che vediamo esatto perché a me sembrano sai che io non conosco i pesci conosco due pesci e meno male che c'è Giuliano quindi sarò lì a imparare un sacco esatto gli farei un sacco di domande su che tipo di pesci sono come i bambini quello che cos'è quello che cos'è quello così o se no perché esatto 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 come i bambini esatto ma non è finita qui perché in realtà in un'altra notte dei ricercatori in un altro momento di questa lunghissima notte dei ricercatori che dura sette giorni esattamente il 28 quando c'è la notte dei ricercatori ufficiale anche nel resto dell'Europa saremo al castello Visconteo di Pavia l'altra parte di Pavia con lo stand abbiamo un bellissimo stand potrete venire scambiare quattro chiacchiere ma anche giocare esatto abbiamo preparato un gioco per voi non spoileriamo sono d'accordo spero vi divertiate io ci sarò sicuramente molto probabilmente ci sarà anche Silvia quindi potrete conoscere senz'altro noi e chi passa di lì benissimo per i prossimi eventi invece a inizio di ottobre dal 5 al 7 saremo a Strambino per un evento organizzato da Frame in realtà per i primi giorni sarà riservato ai comunicatori scientifici quindi magari qualcuno di voi all'ascolto verrà nel caso passate a farmi un saluto sarò io lì e poi la domenica ci saranno degli eventi per la comunità e per il pubblico quindi se siete nella zona informatevi sugli eventi che ci saranno da quelle parti per la prima settimana di ottobre dopodiché ci saranno un sacco di cose saremo a Luca Comics ci sarà saremo al Beer Fest di Genova ma ve ne parleremo più avanti perché sono tutti eventi che andranno verso la seconda metà di ottobre e quindi ne parliamo un po' più in là quando le caratteristiche saranno un po' più definite dobbiamo anche ringraziarvi per averci candidato di nuovo come miglior podcast italiano vi chiediamo quindi se avete voglia di votare per i Macchia Nera Awards quindi scrivete Macchia Nera Awards e votate per almeno dieci categorie fra quelle elencate sono a multiple scelta quindi è facile porta via poco tempo ricordatevi solo di selezionare c'è chi votate per gli altri non mi interessa più di tanto perché noi siamo delle persone autoreferenziali però magari se vi ricordate passando su podcast di votare scientifica se non qualcun altro mi ci fate un favore così vi ringraziamo esatto nel caso sono anni che un po' lo vinciamo un po' arriviamo a secondi quindi anche quest'anno contiamo contiamo su di voi l'anno scorso abbiamo avuto una valanga di voti quest'anno datecelo ancora di più perché siamo curiosi di vedere fin dove possiamo arrivare quando arriviamo a 6 miliardi 6 miliardi e qualcosa di persone basta ci fermiamo basta va bene così e a quel punto iniziamo a instaurare una un governo mondiale ma non diciamolo perché poi ci fermano quelle cose ma sì ma sì ma dai siamo sempre stati noi per la dittatura della scienza no perché la scienza non è democratica detto questo possiamo avviarci ai saluti e quindi no aspetta manca la cosa c'è manca la call cacchio la call esatto abbiamo fatto una call che cos'è una call cerchiamo gente allora scientifica sapete che è una società anzi un'associazione di volontariato quindi siamo tutti volontari nessuno di noi guadagna un euro anzi di solito ci smegniamo parecchi euro nella gestione dell'associazione ma abbiamo bisogno di persone che ci diano una mano a creare i contenuti quindi abbiamo chiesto a voi che ci ascoltate che avete la passione per la scienza avete delle competenze ma non sapete come utilizzarle perché siete precari e quindi non vi fanno fare ricerca tanto noi non possiamo pagarvi quindi non cambia assolutamente possiamo sfruttarvi allo stesso modo esatto comunque cerchiamo biologi ingegneri geologi scienziati naturali chimici matematici medicini medici e odontoiatri per scrivere articoli o partecipare al podcast con le vostre competenze e darci una mano a produrre contenuti ovviamente come ho detto siamo tutti volontari quindi lo scopo di scientifica è principalmente quello di divertirci tutti assieme e di darvi la possibilità di formarvi nell'ambito della comunicazione scientifica che va sempre più di moda a dire il vero perché è sempre più richiesta all'interno di diversi progetti anche di finanziamento nell'ambito della ricerca quindi voi venite ci date una mano noi purtroppo non possiamo darvi nulla in cambio se non la nostra simpatia e il divertimento di fare questa cosa vi assicuro che è particolarmente divertente visto che noi andiamo avanti da sette anni e ancora non ci siamo stufati quindi motivo ci sarà credeteci esatto e partecipate partecipate numerosi quello che dovete fare è mandare un un articolo un un vostro cv un qualcosa che faccia capire chi siate quali competenze avete e e un quindi un articolo sul vostro ambito e un brevissimo cv sulle vostre competenze esperienza comunicazione scientifica all'indirizzo info chioccia scientificas punto it leggetevi i dettagli sulla 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 call che abbiamo pubblicato sul scientificas ci sono un paio di regole giusto quello di utilizzare le fonti non copiare materiale degli altri e stare tra i 3 e i 4 mila caratteri spazi inclusi molto ristrittive le regole ragazzi esatto sì esatto non tanto sono circa di buon senso comunque mi raccomando partecipate numerosi e entrate a far parte della nostra magicissima squadra come fatto Giorgio anni fa sì è vero cerchiamo anche grafici se non siete bravissimi con le parole ma meglio con le immagini va benissimo ovviamente anche di di qualunque altro argomento però grafici esatto quindi fondamentalmente i divulgatori saranno le prossime rockstar quindi giocate d'anticipo e sarete pieni di gruppi o gruppi maschili non so come si dice gruppi maschili non lo so gruppo probabilmente gruppi appena esploderà la cosa voi sarete già pronti e allora sai cos'è no è sbagliato è che gruppi è il plurale maschile e gruppe è il plurale femminile va bene insomma ci siamo va bene per tutto il resto potete contattarci all'indirizzo info chiaccia scientific punto it ci trovate su tutti i maggiori social facebook instagram twitter ci potete contattare sulla chat di di telegram però per farlo dovete prima chiederci il misteriosissimo e segretissimo codice di accesso questo perché abbiamo deciso di non tenerla pubblica per evitare un po' gli spammer in realtà questa cosa non funziona benissimo perché gli spammer entrano lo stesso ma comunque pazienza di solito vengono sonoramente derisi potete scriverci anche al nuovo numero di scientificas che è uguale a quello vecchio perché abbiamo ripristinato il cellulare baracca finalmente e risponde al numero 389 25 96 538 ripeto 389 25 96 538 e poi non mi ricordo più c'è qualcos'altro se mi capita su instagram ogni tanto e su google plus perché siamo ancora su google plus in mezzo penso c'è anche gente che c'è anche gente allora io ho a un certo punto detto vabbè ma google plus lo chiudiamo non c'è più nessuno in realtà c'è ancora gente che commenta quindi bravi lo teniamo aperto solo per voi che utilizzate ancora google plus quindi sappiate che siamo lì e ci sono delle persone anzi una persona Sara che segue google plus solo per voi che che siete ancora lì su questo social un po' strano che c'è è nato ma non è mai morto ma non ha mai sfondato quindi è un po' come come balto non è cane non è lupo sa solo quello che non è e con questa frase saggia esatto direi che ci avviamo alla conclusione della puntata un ringraziamento a tutti per essere stati con noi speriamo vi siate divertiti in quest'oretta assieme e ci sentiamo alla settimana prossima ciao ciao a tutti ciao